La promessa è la nuova SOP di Canale 5, e Misteri al posto di Uomini e Donne. La promessa sarà una grande novità dell'estate di Canale 5. Al posto di Uomini e Donne. Infatti, da fine maggio sarà trasmessa una nuova SOP opera che ha avuto un enorme successo in Spagna. L'atmosfera riporterà ai telespettatori agli inizi del Novecento, con una trama avvincente e appassionante. La protagonista sarà una giovane cameriera che cercherà di vendicarsi di chi le ha ucciso la madre e rapito il fratello. Segreti, tradimenti, passioni e misteri terranno incollati i telespettatori. La nuova SOP di Canale 5 si chiama La Promessa e partirà a fine maggio, prendendo il posto attualmente occupato da Uomini e Donne. Mediaset ha deciso di piazzare il nuovo prodotto spagnolo subito dopo Beautiful e Terra Amara e le aspettative sono alte. In Spagna, infatti, la promessa è partita lo scorso gennaio e si è rivelato un grande successo sin da subito. La storia avvincente e la produzione accurata, infatti, si sono rivelati i mix perfetto per conquistare milioni di telespettatori. Le vicende partiranno da Cordoba, nel 1913, quando presso il palazzo La Promessa si festeggeranno le nozze dell'erede Thames. La sontuosa cerimonia sarà interrotta dalla caduta di un aeroplano pilotato da Manuel, un figlio dei Marchesi, che finirà per schiantarsi e andrà a fuoco. A salvare il signorino dalle fiamme sarà la giovane Iana. Le trame delle prime puntate della promessa regalano alcune anticipazioni e raccontano che Iana salverà Manuel dalle fiamme e il Marchese non esiterà a offrirle del denaro. La ragazza, tuttavia, rifiuterà l'offerta e chiederà invece un lavoro al palazzo. Iana riuscirà in questo modo a entrare alla promessa con lo scopo di indagare sulla morte di sua madre e il rappimento di suo fratello e vendicarsi. L'unico indizio a disposizione della ragazza, infatti, è legato ai Marchesi di Luian. I ricchi proprietari terrieri. Ad ostacolare la missione della ragazza, tuttavia. Arriverà un imprevisto, Iana si innamorerà di Manuel e questo complicherà non poco le cose. Una storia d'amore e di vendetta caratterizzerà la promessa, la nuova sob di Canale 5 che unisce il thriller ai sentimenti. Nel prestigioso palazzo spagnolo abitano i nobili al piano superiore, con i loro segreti e i loro amori. Mentre ai piani inferiori c'è la servitù con le sue storie e i pettegolezzi. I costumi e le ambientazioni straordinarie della soppa hanno ottenuto ottimi giudizi da parte della critica che ha definito questo prodotto come la dontona bay di Spagna.